Allora, bella ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio di Pokémon Maroon Verde Come sapete ci aveva ganciato il salvataggio, però comunque siamo tornati al punto dell'altra volta Dalla Val Dracona Ce l'avevamo parlato Quindi adesso ci riparliamo comunque E riprendiamo da lì, appunto Questo albero è più duro di quanto pensassi Zoccolona Cazzo, ma tu non ti fai mai cazzi i cuoi? Non ti fai mai cazzi i cuochi? Sono impegnato, vattene Ce ne andiamo Non te ne vai? No, apri mai per passare dei cuoi, che fai da un ciuccia? I cuoi molto grossi Niente, adesso dobbiamo combattere con la Val Dracona praticamente Vedete perdere? Certo, come sempre Ma non è un po' Torchic Vai a lottare, coglione Coglione Coglione, usa azione Perché fu il misguardo, non penso, ci facciamo molto, ecco E chi sa un po' di Pokémon Cioè, come è Non tu, non è Cazzo, vuoi? Certo, certo Battuto la lega Pokémon 50 volte? Ma come no? E veramente? I salvataggi già fatti Vai, vai, vai In questa macchina Stiamo rischiando di vendere Con Torchic, eh Con Torchic, lo so Fatta un po' Torchic 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 Bam! Ciao bello, mori? Avversare Torchic? Esatto Coglione, guadagna 69, 69, eh Mentre che sta battuta l'ho fatta cura altra volta Sì Tu c'ho spottesi, ho letto, si fotte mai E c'è E c'è E ho detto, vabbè Che culo Sì, che culo Che culo che cede Val Dracona Ma lui lo dè ti aver vinto la guerra Ah, va, 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 va Esplode C'è 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 Padroneggia Mamma mia S'quadda poco Sua Egli Uo Val Dracone Bene, ora se non ti dispiace Prevedere un'area Ciccia Ricazze E città laggiù E dove mi dici? Come ti c'entrmi? Dove mi aspetta? Antonio Gartone Giustamente Val Dracone Duccio, vieni coglione Torniamo al laboratorio E' namu Stiamo andando, tranquillo Vediamo sta Val Dracona Che vuole Mi scivola Mi cammina, scivola Ah, dottor house Ho sconfittuto figlia Certo Sicuramente un coglione Inibito Ah, 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 scherzavo Assolutamente Ti ho fatto schiaffi per il tuo viaggio Duccio, ti ho fatto schiaffi Poh, po, po Ciao Oh, tanto che paura è mai casa Sforo, anche hai tappare Città, è una civretta Dogombate Poh, ho detto Enobes Duccio pigare Fettuna Cattura Che è Cattura Poh Un po' Me Metro Che stacked Grazie dove cazzo gli pare se non c'è comunque sempre a gambe sto duccio e se non cattivo in un po' nel mercato degli schiavi queste poche bolle che ti ho dato ti aiuteranno grazie va bene possiamo andare? si ciao andammo avanti allora si ti torna alla dottrina ora come cammina? poi dopo 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 ho detto scivola non cammina scivola su se stesso la madre che non per cazzo no no la madre ha male soccola allora che cazzo di qua come ti ho dato quello sfigato sai caro ma fa c'è ma che viene da questa mozza è stronza ora si consiglia una cosa se vuoi andare in voce metti di questo nel culo freme nel tasto D che è un razzo vedrai che è forza è un razzo si comunque B e Z da qua tu ci ricevi un peperoncino da culo soccola ecco le istruzioni freme nel tasto B per inserire il peperoncino da culo nel culo semplice no? semplicissimo soccola io la corri dai più veloce del vento vediamo setup save ok mamma mia quanti andammo veloce giriamo ma non ci vuole si lascia vai 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 merda no mazza il culo oggi non è male cadere di roma dc adempire la lettera di coglione non voglio lontano stasera o per il mio popolo e me ne stiamo abbiamo tagliato route 100 2 ma i pokéball ce l'abbiamo? tac si no non mi vale combatti eh vabbè devi combattere però se vuoi al livello cioè non andiamo avanti se combatti eh chi è? ma che cazzo? oh dio ma questo è guldo ma questo è quello di... ma questo è beccita no e che... the dragon ball the dragon ball come cazzo si chiama la squadra? vogliamo catturà ma che cazzo catturi guldo ma sti cazzi ma almeno catturano un carruccio scusa scappiamo catturare con raycon è una bestia rayconen rayconen oh devi lottare non hai capito c'è una palestra dopo cadere minchia cadere minchia cadere minchia cadere minchia sottamo con sto coglione oh vai se appena diventato un allenatore per allora ti massacro vabbè scusa è arrivato è arrivato il bimbo quello lì bullo ha capito fu col berrettino infatti è lui joseph bullo youngster allen vuole perdere youngster allen manda pociena pociena incredibile va a lottare coglione coglione vai azione dai mamma mi hanno fatto male al tuo cien ti fa male con lui ehi ehi ma proprio mazza vabbè perché c'è musica di cui stazio che stanno a 2 mila un uomo che paura avversario attacco ma sto di paura per lui che mi ha fatto giusto ciao bello mi massacravi mi massacravi mi massacravi eh eh a coglione 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 oh paura eh mi ha ruggito in faccia sei più piccolo di me basta per favore ti prego questo fa male oh mi battevi eh mi battevi eh mi battevi eh la giù posto nevica oh che merda ah fa il potomacchiette un attimo è ogni tipo di droga come posso essere devo dire vai c'è la goga fasticca 0 che so 0 vai quindi a livello di 1 oh grande fasticca è di ottima qualità quante ne vuoi? hai visto che ne dobbiamo lottare ne vuoi 30 grammi? sono 0 non farti bussare dai finanziati se no non ti faccio lo scontrino vabbè eee tieni i pokemon fuori dai coglione è rebellente fasticca scusa uno sul coglione la usiamo eh ce nemmo uno non sai com'è e ancora tenk proprio ti piace vincere facile no vabbè diciamo che il coglione arriva arriva al 30 come niente vabbè dai basta un altro livello così fino a 10 almeno perchè i coordinatori che non hai battuto li portavano a quel livello nemmeno vai siamo dietro la palestra c'è tappapà papà pappone la madre del zoccolallo è pappone giustamente mi sembra di conoscerti come sono tuo figlio ah già che cazzo vuoi non vedi che sono occupato ma che cazzo vuoi non vedi che sono occupato dove vengono io voglio sfidarti mio caro duccio tu sei troppo vecchio per queste cose dobbense pezzo del merda e pappone scantaci un po bocch homo ma che è? pll ». Ma che vuol dire? Sì Stai bambuccia Che cazzo? Ma come basta? O spaccio che ha fatto male a questo comunque Perché bollicine molto sagge? Basta pensare a una serata davanti al fuoco O a piccole unioni di famiglia Comunque voglio un Pokémon Ma e quindi se ascolto bollicine Ma che cazzo stanno a dire? Ma che stanno? Ma regà Ma ci sono un po' troppo carico Questo si chiama Pippone, no? Pippone e Pappone Cioè per forza Pappone scusate Stavo parlando tra me e me Duccio vai con lui a catturare un Pokémon Ma veramente? Ho detto vai Subito Ehi Jimmy niente male la musichetta di tutto fondo vero? Sì Diciamo sì Sì ma non quanto bambuccia Certo c'è la questa bambuccia Vabbè Stanno a fare tutto loro E queste parti si può scopare Scopare Drink a Fantastic Bambuccia Ma come sta questo? Venga questo sta proprio fulminato Lascia perdere Ok io la vado Ma come sta questo? Verso infinito e oltre No io questo ho paura Seguilo e sto chissando dove porta Ma la neve che cade non è neve È bamba È bambuccia È tutta bambuccia Vai Oh questo ci sei infratta eh Jimmy io ho paura Tu cammina Spacca coglioni che non sei altro Ma tu metti al culo Mamma mia Ho paura È bambuccia Chi ha trovato? Chi è? Rals Rals ti spacca tutto Va a lottare Coglioni Pure lui c'è un coglione Zigzagoon Lotta Azione Non fai te Tranquillo Fa tutto da solo Quindi ora bisogna lanciare una pokeball Non ne sono capace Zaino Non lo stai facendo tu Ma lo so fare io però Ho capito sti cazzo È totalmente inutile Po che vuole scritto La descrizione è totalmente inutile Vai Usa sta Oh che lancio perfetto Mamma mia Stai in bambuccia Sempre Sì Per forza Comunque evoluzione La terza evoluzione Di Rals è troppo bella Lo puoi vedere Scusa eh Ma non dovevo Farti vedere io come si fa Ma tu fatti i cazzi Tuo no Ma che cazzo Ce ne frega Mamma Agap Ma che cazzo Ha scritto questa roba Eh boh Beh ora non mi servite più Ci vediamo un merdacce Ciao un merdone Tu che cazzo ci fai ancora qui Guarda che questa sarà la quarta palestra Datti una mossa Oh no questo lo voglio Cuocomaglie Io so come cazzo stanno Io ragazzi cuocomaglie lo voglio Dai voglio cuocomaglie Ecco ciao Non ho Ciao Ma se ci sta pure Peter Griffin Maggi Wilde cuocomaglie Esau Io lo cuocomaglie Vabbè No 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 Voglio cuocomaglie Bosseggia Quei vecchigno Qua che strano Quei buoni Vai su Grazie Finalmente Fantabosco No Siamo nel fantabosco Yeah No No ha vinto Hanno vinto Hanno vinto Voglio crash Voglio crash Regà Hanno vinto No Cioè vai Crash è mio Ma chi è sta Ma chi è sta Che cagata E' scemo Oh ma pure Poisonato Poisonato Veneno parte 5 Vai Io ma devo ancora sentire Oh guarda Questo mi sta a ammazzare Eh ma no Ammazza Non è che ti sta a ammazzare No cazzo Vabbè Non riuscivo a Faccattere un cazzo Sai qual è la cosa bella Adesso Ti serve un antitodo Ah coglione hai perso Ma dove sei scazzo Vabbè E da un antistopoli Penso che possiamo chiudere Niente chiudiamo qui Per questo episodio Abbiamo provato a catturare Qualche po' Crash Quagmire No cioè Ci sei messo di impegno Che cresce E Crash gli ha rotto Popo il culo Sì Quindi niente Diciamo che La prossima volta Andiamo per la palestra Quindi Stateci Perché Andiamo a catturare un pokemon E poi ci facciamo la palestra La prima palestra E Ah intanto Mi stavo un attimo C'ho una vertebra criccata Mi stavo A scriccare Ma non ce li frega un cazzo Comunque Infatti non ce li frega un cazzo Comunque ragazzi Da Granasi è tutto Noi ci vediamo al prossimo episodio Di Team Pokemon Maronberda Lo dico perché mi taglio Sì è troppo bello È troppo bello Duccio il coglione Se vi è piaciuto Lasciamo 2000 like E ci vediamo al prossimo video Bella Bella